Eccoci qua, di nuovo e scrupolosamente in diretta come dico i giovani Francesco, però se ti aspettavano i giovani, la prossima volta devi dire quando arrivano i giovani perché vogliono che ritorni proprio sull'argomento appena hai accennato all'inizio del nostro programma. Essendo giovane me stesso, faccio a quel 10. Diamo il benvenuto all'onorevole Orlando Greco, benvenuto, di nuovo congratulazioni per l'intervento di ieri, adesso spieghiamo perché vi sto congratulando, perché di Calabresi sono passati tanti, molto importanti, però lei ieri secondo me ha lasciato un segno concreto finalmente, arrivano tante delegazioni a tutte le regioni d'Italia, promesse, 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 chiacchiere, 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 di consunto non si fa mai niente, ma questa volta sembra che siamo sulla strada buona, benvenuti in Australia, benvenuta a Sydney, lei è già stato a Melbourne, mi dice che hai parenti a Melbourne, quindi... Sono stato a Melbourne sei giorni con una delegazione, ma ero già stato a Sydney, a Melbourne sei anni fa, sono molto attratto dall'Australia, che è una terra multiculturale, multietnica, che dove ancora si riscoprono, si ritrovano le nostre radici, dove ancora c'è quel sapore di casa e dei valori della calabresità e dell'inalità, che la fa essere vicina, vicina a sottoscritto, ma vicino un po' a tutti quelli che vengono con grande curiosità a scoprire le risorse e le bellezze di questa terra. Il motivo della sua visita è perché io, ho detto poco fa, sembra che sia una cosa veramente concreta. Sì, è concreta perché noi siamo partiti come Regione Calabria, io ho fatto l'amministratore, ho fatto il sindaco di Castrolibro, utilizzo questa emittente per salutare non solo tutti i calabresi, tutti gli italiani, ma soprattutto anche tutti i miei concittadini, che sono tantissimi. voi immaginate che c'è un sobborgo, che era un comune prima di Melbourne, Clayton, dove i cittadini del mio comune, Castrolibro, noi chiamati Castrofrancari, l'Italia è particolare, perché l'Italia è una sinfonia di suoni diversi, di accendi diversi, di dialetti diversi, e quindi i Castrofrancari sono moltissimi nella zona di Melbourne, Clayton e altri, quindi colgo l'opportunità, così come anche qui a Sine, colgo l'opportunità che mi date per salutare i miei concittadini, i miei compaesani e i miei co-regionali. Sì, è una visita estremamente concreta. Noi come Calabria abbiamo investito molto nell'ambito della risorsa, delle politiche dell'emigrazione, nel tentativo di recuperare il tempo perso e utilizzare, lasciare passare il termine che può sembrare quantitativo, ma utilizzare le risorse importanti dei calabresi nel mondo. Noi abbiamo nominato la consulta, qua ci sono delle figure importanti nell'Australia, il senatore Giacobbe ci ha dato l'onore di essere presente e nell'ambito della consulta abbiamo già approvato per la prima volta il piano degli interventi. Quindi noi siamo qua per stringere accordi commerciali da un lato, ma soprattutto con i consolati e con l'aiuto del senatore Giacobbe e delle associazioni, di firmare delle convenzioni, così come abbiamo già fatto in altre parti del mondo, con le università, affinché il giovane calabrese che si iscrive all'Università della Calabria, per dire che poi vuole aprirsi al mondo, vuole frequentare le università di Melbourne o di Sydney, così come del Wisconsin, la laurea è equipollente, gli vengono riconosciute le materie e questo vale anche per il giovane che si iscrive a Melbourne e che vuole frequentare e venire in Italia. Meraviglioso, è un progetto meraviglioso. Sì, noi l'abbiamo già sperimentato e posso dire che funziona benissimo, per questo la stiamo allargando, l'abbiamo sperimentato tra l'Università del Parkside in Wisconsin e l'Università della Calabria e in più, questo è un anno importante, sono i 70 anni della dieta mediterranea, lo dicevo ieri al senatore Giacobbe. Sì, tra l'altro davanti a dei piatti veramente eccezionali, diciamo dove siamo stati ieri, al Club Calabrese, come si chiama? Manly Veal Calabria Club. E' risolto praticamente, sta andando a Gombiavele, stanno facendo un lavoro eccezionale. Gli abitanti di Sidi vogliono andare a farsi una passeggiata, un posto dove si mangia bene, dieta mediterranea, ma si mangia bene, saporito e non è caro, si può portare la famiglia praticamente. Paolo, molti vi hanno seguiti in rete e hanno... Volevo essere lì a mangiare questi bellissimi piatti. Scusa di eruzione, non avevo... No, 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 anzi, sono io che mi dilungo molto, ma dicevo brevemente, il discorso della dieta mediterranea, sono i 70 anni in cui Enzel Kiss codificò la dieta mediterranea e la codificò in Calabria, a Nicotera. Noi abbiamo trovato un video che era conservato alla Massachusetts University, in cui Enzel Kiss, il famoso medico della razione K, dice Nicotera. Là oggi c'è un tema molto serio, un tema che non noi, ma loro senatori e parlamentari stanno, diciamo, si stanno occupando perché è molto importante, che è quello dell'aumento del limite della vita, che significa comunque un aumento anche della spesa sanitaria e quindi oggi la necessità di prevenire malattie, quindi prevenire significa ridurre anche la spesa sanitaria, attraverso una dieta, che è una dieta salutare, attraverso uno stile di vita e questo fu codificato da Enzel Kiss e Nicotera. Brevemente, l'olio calabrese, così come i pomodori di Belmonte o la cipolla di Tropea, per fare degli esempi, non sono semplicemente buoni, ma hanno delle proprietà organolettiche, i famosi flavonoidi, polifenoli, antiossidati, che sono in misura superiore, addirittura la cipolla di Tropea rispetto a una cipolla normale della Tunisia, per fare un esempio, a flavonoidi tre volte superiori a quelli di altri tipi di cipolla, quindi per dire che vi è la necessità oggi di promuovere la dieta mediterranea, promuovendo la dieta mediterranea, promuovemo anche la cucina della dieta mediterranea e quindi noi abbiamo già stipulato degli accordi con le università, nel mese di luglio noi faremo quattro settimane per fare corsi di formazione, chiaramente non in numero eccessivo, abbiamo un numero abbastanza limitato, per fare corsi di formazione sulla lingua italiana, sulla cultura italiana e calabrese e sulla cucina della dieta mediterranea, cioè formiamo dei cuochi che sono figli comunque di calabrese o di chi ha origine calabrese. Paolo, ora capisco perché, hai detto che l'onorevole è benvenuto e ha messo in tavola un progetto tangibile. Beh, è un complimento che viene da Felice, che è stato fra l'altro consultore della regione Puglia per moltissimo tempo, è molto benvenuto. Io volevo dire due cose, innanzitutto dare il benvenuto in Australia al deputato l'onorevole. Scusa, sei dita la bellezza della diretta. Qualcuno mi ha mandato un messaggio, dice il calabrese doc nella sperduta Brisbane, ti è lemata tanti soldi, si chiama Sergio. Dico, se volete intervenire, volete salutare il calabrese doc che è con noi, perché poi devo fare una domanda molto importante, potete mandare un messaggino allo 0458 346833 oppure telefonare in diretta, c'è il nostro Andrea che mi dà il via libera, può prendere le telefonate, 1300 363 900. Mentre il senatore parla, mentre parliamo potete telefonare, noi interrompiamo subito chi sta parlando e passiamo la telefonata al nostro donore. Allora, ricomincio, dicevo, volevo dare il benvenuto a Orlandino Greco, l'onorevole Orlandino Greco e all'onorevole Sergio che l'accompagna in Australia, da quello che abbiamo parlato ieri sera è stato un viaggio molto interessante e lo sarà ancora oggi e domani mentre saranno a Sidini. Io, l'onorevole Greco, diciamo che l'ho conosciuto indirettamente negli ultimi anni perché il mio vicino di banco in Parlamento è il senatore Turano, eletto nel Nord America, ma che è originario di Cosenza e quindi un calabrese doc, uno con il quale litigo sempre se sono più fortunati i calabresi a vedere la Sicilia o i siciliani a vedere la Calabria ogni giorno. Ma diciamo, lui mi ha parlato molto di questi programmi della regione Calabria e devo dire, io sono un tipo molto schietto come Paolo sa, ho partecipato a numerose riunioni in Italia e in questo momento la consulta regionale calabresa assieme alla consulta regionale dell'Emilia Romagna stanno facendo un ottimo lavoro per le loro comunità all'estero e per promuovere le regioni all'estero. La regione Puglia sta lavorando, sta producendo dei buoni risultati, però diciamo in questo momento sono queste le due consulte che si trovano a lavorare in maniera diretta. Io sulla questione degli accordi fra l'Università ci credo molto perché questo accordo con l'Università del Wisconsin degli Stati Uniti ha permesso di formare delle persone, per cui oggi in Ausali abbiamo proprio un risultato di questa cosa qui, è un dirigente della Fiat, un dirigente del New Holland, Daniele Maggiolini che è un calabrese che ha studiato a Cosenza, da Cosenza poi è andato all'Università della Calabria, è andato a studiare a Chicago e da Chicago è stato assunto da questa società che oggi l'ha portato a rendere i suoi servizi in Australia. Quindi il mondo globalizzato funziona anche utilizzando quelle che sono le sinergie ma anche i vantaggi che abbiamo da un posto all'altro. Sulla validità della dieta mediterranea io non ho dubbi e secondo me è una carta vincente e come diceva l'onorevole Greco dobbiamo sottolineare non solo il prodotto DOC ma anche lo stile di cucina, lo stile di cucinare perché io sono molto giovane come ho detto prima però la prevenzione funziona molto più che non la cura sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della qualità di vita. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ci saluta, ci non puoi intervenire perché è stanchissimo parlerò col senatore che lo conosco personalmente, ci sentiamo spesso e ci sta ascoltando dal treno con il nostro... sullo streaming. Il sindaco Pirozzi sta facendo un ottimo lavoro quindi vogliamo salutarlo ma vogliamo anche dirgli che continuiamo ad essergli vicino anche se con il cuore, anche se da lontano però lo pensiamo e quindi in un certo senso questo possa servire per accrescere ancora di più il suo entusiasmo che poi è proprio tanto perché fa tanta iniziativa. Torno all'onorevole Greco, signor Onorevole, ma i soldi ci sono per fare tutte queste cose? La consulta ha già approvato quindi la giunta regionale, il piano degli interventi, per questo anno noi abbiamo una somma di 150 mila euro che non è molto ma consente di partire intanto con gli scambi poi abbiamo gli accordi con l'università dove le abbiamo già esiglate. Che cosa significa? Significa che intanto sulle lauree c'è già il via libera dell'Università della Calabria sulla formazione c'è il via libera di tutte e tre le università con accordi già firmati e le università chiaramente compartecipano nella misura in cui noi faremo questi corsi di formazione nel mese di luglio dove l'università mettono a disposizione anche gli alloggi. Tutte le università, ma in particolare l'università della Calabria è un campus universitario dove ha la menza, gli alloggi, dove si sta bene e di livelli anche alti il soggiorno. Quindi c'è già questo. Noi non... è stata una delle... secondo me la prima volta in cui la consulta e la giunta regionale approvano un pionio di interventi con la dotazione finanziaria. Stiamo riproponendo nel nuovo bilancio un'altra dotazione finanziaria per fare anche altre cose. Per esempio noi stiamo andando alla riscoperta, alla riscoperta anche delle storie dei calabresi perché molte volte si disperde quelli che sono stati i valori. In Calabria esistono dei problemi molto seri che sono legati all'occupazione la mancanza di occupazione genera rassegnazione. Questo è il dramma che noi dobbiamo vincere. Noi vogliamo raccontare le storie di persone, di nostri cittadini che non si sono arresi che anzi hanno combattuto magari fuori dai confini ma hanno combattuto per imporre la calabresità, imporre il proprio nome. Quindi su questo noi stiamo facendo una sorta di quaderno o altro. Ma soprattutto questa volta la consulta ha approvato non solo un piano sulle politiche dell'immigrazione ma anche sulle politiche degli investimenti. Io ho scoperto e sto scoprendo delle realtà come così qua a Sidere. Melbourne in Canada, io conoscevo bene la realtà dell'America che è una realtà strepitosa dei calabresi. Nel tentativo di anche ricercare investimenti. La Calabria ha bisogno di persone che investono. Abbiamo messo su un progetto molto serio che è Calabria Gold Destination. Cioè la Calabria che può diventare destinazione golfistica perché il clima, l'habitat, l'ambiente naturale, i borghi possono veramente attrarre non solo investimenti ma attrarre anche un turismo di ritorno e soprattutto un turismo di qualità. Quindi c'è un pacchetto che chiaramente ha copertura finanziaria e ha concretezza. C'è Umberto che manda un messaggio. Da quando ci sono questi benedetti o maledetti non lo so perché a me piaceva quando gli ascoltatori intervenivano con la voce e adesso invece, perché è un orario, stanno al lavoro, mandano i messaggini. Umberto dice praticamente siamo calabresi. Mio figlio è un calabrese nato in Australia ma se io voglio fare il progetto, partecipare a questo progetto come lo saprò, in che modo posso partecipare e se ci saranno intromissioni e tu mi capisci. Ha scritto così, tu mi capisci a me e tu mi capisci. No, non ci saranno intromissioni. Tant'è che siamo qua perché abbiamo riscontrato un problema in genere diciamo in tante parti del mondo. Le associazioni dei calabresi devono essere iscritte all'albo regionale. Chi non è iscritto deve farlo subito. Attraverso i consultori che noi abbiamo nominato e attraverso l'associazione, quindi anche la politica diciamo locale si formalizzeranno gli accordi tra le nostre università e le università che i consultori individueranno insieme all'associazione. Poi si stabilisce il criterio. Noi abbiamo già fatto la prima parte, regione Calabria, università. Ora noi in termini, io penso già 10-15 giorni trasmetteremo ai consultori i protocolli che noi abbiamo stilato si individuano le università e si individuano i criteri. Ma tutto alla massima trasparenza perché noi abbiamo oggi la necessità e la voglia di portare esperienze positive in Calabria quindi dare una vicinanza concreta a tutti i calabresi del mondo. I mezzi poi saranno la stampa italiana. Se posso aggiungere, in Australia la regione Calabria ha 5 consultori praticamente. C'è Salvatore Riggio nel Western Australia a Perth c'è Martino Princi a Adelaide più un'altra consultrice che è la rappresentante dei giovani non mi ricordo il nome purtroppo ma c'è Vince Daniele a Melbourne e abbiamo Tony Mittica a Sydney. Quindi è ben rappresentata in tutti gli stati si tratta di mettere queste 5 persone assieme che possono lavorare assieme in maniera tale da promuovere questa cosa. Poi su questo punto volevo riprendere il discorso che facevamo poco fa con Felice anche in relazione all'iniziativa di domenica che ha avuto un grande successo. Ecco, queste sono le iniziative che ci mettono assieme perché se lavoriamo su delle cose che interessano la comunità in generale e gli accordi fra le università interessano la comunità in generale il problema della dieta mediterranea interessa la comunità in generale la comunità australiana la comunità degli australiani di origine italiana la comunità degli australiani di origine calabrese quindi queste sono le cose che ci mettono assieme e sono le cose su cui possiamo incoraggiare la partecipazione e dobbiamo per renderla proprio come iniziativa concreta. Onorevole, la sua venuta e la promozione della dieta mediterranea è opportuna perché io come direttore e dirigente della Multicultural New South Wales un ente statale che sopravvede l'operato di 240 diverse comunità nazionalità in questo Stato vedo che l'Australia sta cambiando l'Australia, la geografia, la società cambia perciò il fatto che la promozione della dieta mediterranea è più che propizia in questo grande minestrone di cambiamento australiano con nazionalità indiane, cinesi, indonesiane perciò identificare questo programma con tutti i ristoratori perché i calabresi sono gestori di centinaia e centinaia e centinaia di ristoranti in tutta Australia perciò, pertanto, mi auguro che la promozione avvenga tramite anche i gestori dei ristoranti questa idea perché è veramente benvenuta è veramente ben voluta posso pensare un'idea? questa è un'idea che ho maturato negli ultimi 30 secondi ogni volta che viene a Venitalia lui viene qualche idea abbiamo maturato e abbiamo scoperto che sono 70 anni che la dieta mediterranea è stata studiata è stata studiata dalle forze armate americane tra le altre cose in Calabria partendo da Nicotera giustamente diceva ieri sera l'onorevole Greco dovremmo ricordare Nicotera per queste caratteristiche e non per altre cose ma perché non lanciamo un appello ai tanti programmi che abbiamo in Australia che promuovono la cucina perché oggi qualsiasi canale televisivo guardi da My Kitchen Rule a tutti gli altri programmi noi lo abbiamo il giovedì no, ma perché non lanciamo appunto un'idea che inseriscono nelle loro competizioni una sessione che riguarda la dieta mediterranea questa è una bellissima idea cioè può fare una proposta del genere anche tramite la Fiamme, il Globo e lanciare l'idea noi siamo disponibili a darvi la consulenza italiana da parte delle regioni interessate eccetera e voi potreste poter programmare in uno dei vostri programmi un piatto della dieta mediterranea lo facciamo da questo giovedì dal prossimo giovedì perché noi ogni giovedì facciamo la buona cucina italiana e oltre il programma ogni giovedì un'ora e lo facciamo la buona cucina italiana e mediterranea e oltre va bene è stato subito abbiamo a un minuto per salutare onorevole perché i tempi radiofonici sono questi ma sì io saluto ringrazio voi ringrazio il senatore Giacobbe ringrazio questa emittente ringrazio i calabresi in Australia per l'accoglienza che hanno voluto tributare certamente immeritata ma che mi ha fatto commuovere sono uno abbastanza facile alla commozione e ieri nelle parole dei presidenti delle associazioni c'è stata questa commozione perché si vive di sentimenti si vive di rapporti si vive di legami la Calabria e il sud senatore ha una peculiarità rispetto anche alle altre parti del nord la Calabria la Sicilia la Puglia è comunità non è semplicemente sanitaria c'è il comune sentire noi sentiamo la vicinanza e avvertiamo questo sentimento di rapporto e di legami un saluto e un abbraccio sento la regia che mi sta sulle spalle grazie Francesco grazie a te e comunque la commozione è giusta e i complimenti non sono immeritati per l'onorevole Greco benissimo benissimo buon lavoro